Assessore Allerucci, seconda edizione del Galà dello Sport, quindi un evento che sta prendendo campo per rendere giustizia a tutte le società sportive. Sì, senza dubbio, siamo molto felici dopo il grande successo dello scorso anno di poter riproporre il Galà dello Sport a Montevarchi. Lo faremo di nuovo in Piazza Varchi, quindi nel centro della nostra città, per dare comunque una grande soddisfazione e premiare di fronte alla cittadinanza i migliori atleti, le squadre che hanno vinto campionati, competizioni, tornei, sia a livello individuale che a livello di squadra e collettivo. Ci saranno tanti premi, avremo delle pergamene per le società sportive che hanno vinto e che hanno partecipato a questa edizione del Galà dello Sport. Abbiamo anche tante pergamene per 21 tra atleti individuali e squadre delle nostre società sportive di Montevarchi. Oltre a questo, non vi dirò a chi toccherà, ma ci sarà anche un palmarès per una squadra e avremo anche una targa per un personaggio sportivo di Montevarchi. Questo sarà alla fine il programma. Chiaramente siamo molto felici che i nostri giovani atleti, le nostre giovani atlete, possano venire a ricevere un premio di fronte appunto alla città. Sicuramente questo è anche frutto del grande impegno, grande passione, il sacrificio e l'appartenenza che poi le società sportive di Montevarchi mettono ogni giorno nella crescita sportiva e non solo dei nostri giovani.